Oggi parliamo del Cybertruck che per la prima volta ufficialmente viene venduto anche al di fuori degli Stati Uniti. Rimaniamo negli Stati Uniti per un'offerta estremamente interessante che riguarda per ora Model S e Model X e poi Tesla semmai in Europa. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Oggi cominciamo con il Cybertruck. Questo mezzo assurdo presentato nel 2019, io c'ero novembre 2019 e che ha fatto tanto tanto discutere finalmente esce dagli Stati Uniti. Sì, perché da quando sono iniziate le consegne lo scorso novembre Tesla non lo ha mai commercializzato al di fuori degli Stati Uniti. Adesso arriva anche in Canada e Messico, quindi rimaniamo nel continente americano. Ma attenzione perché Tesla si sta muovendo con estrema intelligenza e capiamo perché. Allora, il Cybertruck a oggi è offerto nella versione Founder Edition. Che cosa vuol dire? È una versione che costa ben 20 mila dollari in più del prezzo base, diciamo così, ed ha qualcosa di più. Quindi un badge specifico, viene compreso l'FSD, è compresa la barra led superiore sopra al parabrezza, insomma tante piccole aggiunte per questa edizione speciale. Ne avevamo già parlato in passato perché Tesla effettivamente sta facendo molto bene a sfruttare questa occasione. Cioè, ancora la produzione di Cybertruck si attesta intorno alle 1500 unità a settimana, piano piano sta crescendo, ma finché comunque c'è tanta domanda e la produzione non riesce ancora a incontrare la domanda, beh, è giusto che chi vuole il Cybertruck prenda questa edizione spendendo di più. E Tesla ovviamente aumenta i profitti anche se a oggi il Cybertruck, proprio perché non ha ancora incontrato determinati volumi, non è ancora profittevole. Elon ha detto che entro fine anno dovrebbe diventare effettivamente profittevole. Comunque sia, arriva in Canada e in Messico questa Founder Edition, ma c'è un'altra novità, perché mentre fino a qualche tempo fa la mail, diciamo, di configurazione del Cybertruck era arrivata solo e esclusivamente a coloro che lo avevano già prenotato, quindi Stati Uniti e adesso Canada e Messico, attualmente negli Stati Uniti è possibile semplicemente ordinarlo dal sito. Quindi non è più necessario averlo prenotato in precedenza, ma allora mi direte, ma come il Cybertruck ha due milioni di prenotazioni, com'è possibile che se io lo voglio oggi semplicemente vado sul sito e lo ordino? Beh, questo ovviamente va di pari passo con la Founder Edition perché anch'io aspetterei ovviamente di averlo al prezzo più basso, non a 20 mila dollari in più, perché di avere magari l'edizione speciale non mi interessa. Quindi Tesla probabilmente lo ha già consegnato a tutti quelli che lo avevano prenotato e che hanno accettato di prendere la Founder Edition e ora sta aprendo gli ordini anche a chi non lo aveva prenotato in precedenza, ma comunque è disposto a spendere 20 mila dollari in più per avere la Founder Edition. Anche questa ovviamente è una mossa di marketing estremamente intelligente. Comunque quando Tesla vorrà semplicemente vendere la versione normale comincerà a farlo e mi aspetto che cominci a venderla a chi lo aveva prenotato precedentemente. Ma c'è un'altra novità che io come ben sapete lo avevo prenotato nel 2019 e infatti ho un RN, un Reservation Number abbastanza basso perché sono cominciati i Reservation Number con il 112 e numeri alti e poi sono cominciati subito i 113. Ecco io ho un 113 come Reservation Number e adesso nella mia app lo vedo configurabile. Purtroppo però, probabilmente anche qualcuno di voi che l'ha prenotato lo vedrà, controllate nella vostra app. Purtroppo però che cosa intende Tesla con configurabile? Che se io lo voglio comprare lo devo prendere negli Stati Uniti, è normale. E questo ve lo dico perché è arrivato anche a qualche amico che l'ha prenotato in Italia, ovviamente se si clicca sopra si configura in dollari negli Stati Uniti, il che comporta andarlo a prendere negli Stati Uniti e poi ognuno ci fa quello che vuole. E l'esportazione del Cybertruck in Europa è possibile effettivamente perché ce ne sono 8 o 9 adesso che girano in Europa. Funziona anche la ricarica, vi dirò di più. Tante funzioni di software ovviamente non sono disponibili perché il software è diverso da quello americano però effettivamente se uno avesse la disponibilità economica di farlo può comprarsi il Cybertruck e portarselo in Italia. Io purtroppo a oggi non ce la faccio. Comunque vedremo un po' gli sviluppi. Ma ora parliamo invece di Model S e Model X. Sappiamo che questi due modelli ormai sono diventati abbastanza marginali per Tesla perché su circa 2 milioni di auto vendute all'anno, 1.8 milione, più o meno, solo meno di 100.000 sono Model S e Model X nonostante abbiano dei margini sicuramente maggiori di Model 3 e Model Y, comunque rivestono un'importanza che ormai è veramente limitata e anche le vendite effettivamente sono abbastanza basse, secondo me inferiori a quello che si sarebbe aspettato Tesla ma esce un'offerta secondo me che potrebbe rilanciare questi due modelli, quantomeno negli Stati Uniti perché se voi andate sul configuratore americano nella sezione FSD, quindi quando si può poi comprare materialmente il full self driving, l'autopilot adesso c'è un'altra opzione, quindi si può acquistare completamente a 8.000 dollari e anche qui il prezzo era sceso da 12.000 a 8.000 intorno ad aprile altrimenti si può comprare, e questo è molto interessante e intelligente, un bundle, un pacchetto di 3 anni che però non comprende solo l'FSD, anche perché non converrebbe, perché qui costa 5.000 dollari ma considerate che l'FSD negli Stati Uniti è anche acquistabile in abbonamento a 99 dollari al mese quindi per 3 anni sarebbero 3.600 dollari, quindi questo costa di più quindi che cosa dà di più? Dà 3 anni di FSD, dà 3 anni di Premium Connectivity e anche questi sono circa 100 dollari l'anno, quindi non arriveremmo ai 5.000 ma dà anche i supercharger gratuiti che facendo giusto due calcoli quindi varrebbero, secondo Tesla, poco più di 1.000 dollari per 3 anni il che, insomma, non è niente male cioè, se voi poteste comprare un pacchetto di supercharger gratuiti quanto varrebbero per voi? io li ho usati in passato, soprattutto quando ho avuto Model S in Italia nel 2017-2018 dove percorrevo veramente tanta strada, 50-60.000 km l'anno beh, io ho fatto una stima che valevano più di 1.000 euro all'anno per me ma, insomma, dipende da come li usate io credo che un pacchetto di questo genere soprattutto in Italia, dove le colonnine hanno il loro costo potrebbe diventare estremamente interessante ora, lo tweet subito a Elon sia mai che magari possa offrire in Italia un qualche pacchetto con supercharger gratuiti ma sarebbe estremamente interessante e ora passiamo al camion Tesla il cosiddetto Tesla Semai perché la fabbrica in Nevada si sta espandendo Tesla davvero vuole cominciare a costruire in volume il camion Tesla ma non solo per gli Stati Uniti perché Tesla ha aperto alcune posizioni lavorative che riguardano proprio il camion Tesla anche in Europa quindi dobbiamo aspettarci nei prossimi anni lasciatemi dire che il camion Tesla possa arrivare anche in Europa ed effettivamente non poteva che essere così questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao